bella a tutti ragazzi sono gtffr e oggi sono tornato sul canale del clan per portarvi questo mio nuovo video visto che molti avete chiesto un gameplay da parte mia su questo gioco avevo portato diciamo dei gameplay su mv3 avevo trattato quel gioco al cento per cento quindi sono tornato così sul canale in clan per portarvi questo video sul call of duty costa la modalità ovviamente come potete capire è tutti contro tutti è una cam strike realizzata sotto i tre minuti in due minuti e 40 più o meno due minuti e 42 e realizzato con il maverick l'arma del pacchetto mappa slot quindi oggi vi parlerò appunto secondo me darò una mia opinione appunto su quest'arma anche se comunque un po in ritardo visto che il pacchetto è uscito un po di tempo fa comunque darò un po secondo me quella che è quest'arma i punti cioè i punti a favore i punti comunque le pecche di quest'arma è un po così e poi vi dirò anche perché non mi trovo molto bene sul call of duty costa allora io penso che comunque quest'arma sia un ottimo fissile d'assalto perché soprattutto dalle medie distanze uccide veramente pochissimi colpi e mi trovo molto bene con il mirino ma secondo me è molto precisa anche se a molta gente comunque non piace o forse perché non lo so al mirino comunque abbinandola con il calcio e il sensatore io vi consiglio questa appunto abbinando così questa arma diventa veramente molto forte e quindi volevo dirvi anche perché non mi trovo bene sul call of duty costa allora beh perché comunque cambiando prole giocando su xbox one mi sono trovato un po un po male su xbox one perché il controller non è diciamo molto non è per niente punto uguale a quello di 360 mi sono dovuto un po abituare così per giocare ma comunque quello è il problema minore visto che comunque la gente che gira su call of duty costa è veramente gente di merda cosa del termine ma cioè se ne vedono tutti i colori cioè esplosivi artigianali silenzio di tomba che si mette negli angoli e spara in prefire cioè non si può giocare non si può giocare comunque questi diciamo i miei piccoli due argomenti da proporvi appunto in questo fortissimo video e volevo dire anche volgo l'occasione per dirvi che sul mio canale quindi jdf ferro iniziate a far video iniziate anche una serie tutti contro tutti quindi magari se vi può interessare passate sul mio canale iscrivetevi al canale del clan dal mio canale fateci un salto magari vedete un po tanto perché comunque iniziate anche una serie su tutti contro tutti quindi spero che comunque il video vi sia piaciuto una game come ho detto molto veloce facciate un like un commento iscrivetevi al canale niente rega peace non ti piace il gtf ti ammazzati quando arrivo devi farmi passare